L'Arezzo è fuori dalla Coppa Italia, gli Amaranto hanno perso 2-1 a Livorno nella gara secca dei sedicesimi di finale in una partita con ampio turnover su entrambi i fronti. 3-4-3 per Sottil da una parte, 3-5-2 per Pavanel dall'altra con Edefeudis, Cutole e Moscardelli neanche convocati. Buono l'inizio dell'Arezzo, al terzo Di Nardo si fa tutto il campo in progressione ma Romboli si salva nell'uno contro uno anche con l'aiuto del palo. Il gol è solo rimandato sulle cross dalla bandierina Muscat a colpire il secondo legno della serata, poi Di Nardo è bravo ad appoggiare per Sabatino che con il piattone destro porta avanti l'Arezzo. Secondo gol stagionale per il difensore, derby che si sposta dalla parte di Pavanel il Livorno replica poco dopo con Maiorino e il debuttante Ferrari si guadagna i primi applausi della serata con un intervento distinto che salva porta il risultato. L'Arezzo gioca con Epiglio e costruisce i presupposti per il raddoppio peccato che Benucci su assist di Di Santo fallisca da pochi passi, gol del 2-0. A pochi istanti dal riposo il solito Maiorino trova il jolly di classe, parabola su punizione e l'1-1 è cosa fatta. È il quarto gol in carriera delle fantasista ex Torres Cremonese contro l'Arezzo. Nell'intervallo Pavanel rimpiazza Rinaldi e Foglia con Varga e Yebli il Livorno premia la ricerca del vantaggio ma l'Arezzo tiene botta con vigore concedendo qualche mischia dentro i 16 metri che un po' grazie alla buona sorte, un po' per gli errori di mira degli avversari, non produce granché. Sottil da spazio a Perez e Marchi Pavanel fa entrare anche Cellini per Sabatino mentre Ferrari si mette di nuovo in bella mostra stoppando il tiro a botta sicura di Morelli. Il derby resta in equilibrio, poi l'arbitro Zingarelli di Siena giudica da rigore questa sbracciata di Muscat su Perez. Il direttore di gara segna il penalty fra le proteste a Maranto ma Ferrari si guadagna definitivamente la palma delle migliori in campo intercettando il destro secco dell'ex Montini. Si rimane sull'1-1 e Cellini avrebbe un paio di buone occasioni per riportare avanti l'Arezzo invece a 6 dalla fine dopo imbucata di Perez. Montini cancella l'errore di poco prima con un tiro potente e preciso che si infila vicino all'incrocio. È il 2-1 che chiude la partita e regala la qualificazione del Livorno che adesso sfiderà la Viterbese per l'Arezzo. Come domenica a Siena apprezzamenti trasversali ma senza il conforto del risultato.